Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di intrattenimento che affronta i temi della cultura, della politica, dello sport. Oggi apriamo una finestra sul mondo del cinema, la Sicilia è un territorio ricco di talenti, di esperienze, è inutile che sto io qui a fare il racconto di cosa significa la Sicilia per il mondo del cinema a livello mondiale, a parte la parentesi di Cannes e di quello che sta succedendo sul piano giudiziario, ma a noi di Talk Sicilia piace raccontare le storie vere, quelle che aprono degli squarci sul passato, si focalizzano su storie importanti, su storie che non dobbiamo dimenticare. Ed è per noi un grande onore oggi avere con noi Pasquale Scimeca, grazie Pasquale di aver accettato il nostro invito. Pasquale Scimeca viene qui oggi a presentare la sua ultima opera, un film che ancora oggi ha un titolo provvisorio, ma che è dedicato alla figura del giudice Cesare Terranova e di Lenin Mancuso. Grazie, è un film ancora in fase di lavorazione, non è finito, lo stiamo montando. Però è importante dare delle anticipazioni a chi ci segue per sapere che Scimeca è nuovamente on the road. Guarda, io per quanto riguarda il discorso che dicevi tu prima, cioè la storia di questa terra, a partire dal dopoguerra in poi. Io diciamo, mi piace raccontare le storie delle persone, che poi sono legate alla storia in generale, alle vicende di questa terra, che poi non è solo le vicende della Sicilia, ma sono storie che hanno a che fare con la storia d'Italia. E soprattutto delle persone che sono state un po' messe da parte, dimenticate. a iniziare da Placido Rizzotto, che ero, diciamo così, uno tra i primi martiri, ucciso da Lucia Noliggio dei Corleonesi nel 1948, quindi subito dopo la fine della guerra, uno dei primi martiri, diciamo così, della mafia. Perché? Perché in quella storia c'è la storia della fine del mondo contadino, della civiltà contadina, come la chiamava per Paolo Pasolini. Contadini che lottavano per la terra contro i proprietari terrieri, il latifondo, eccetera, e che vengono sconfitti sostanzialmente. E poi dopo, diciamo così, ho raccontato un'altra storia che è diversa, ma che è anche simile, tra virgolette, la storia di fratello Biagio, di Biagio Conte. E l'ho fatto quando ancora fratello Biagio non era conosciuto, cioè era, diciamo così, nel film del 2014. E anche lì raccontare il fratello Biagio per me è stato importante. Perché? Perché il fratello Biagio rappresenta, per quanto mi riguarda, oltre ad essere un sant'uomo, cioè un uomo straordinario, eccezionale, un uomo tra i più importanti del nostro tempo, perché rappresenta la critica radicale alla società dei consumi, alla società del consumismo. Assolutamente vero. Questo ragazzo che abbandona, diciamo così, la ricchezza, eccetera, va nei boschi, si dà all'eremitaggio e poi ritorna in questa città per occuparsi degli ultimi. Tu questo film l'hai girato quasi dieci anni fa. In realtà a quei tempi non c'era tantissima attenzione a Biagio Conte. Addirittura qualcuno lo pensava che fosse, come dire, un buon tempone un po' fuori di testa che si divertiva a giocare, è soltanto oggi, come dire, si abbiamo percepito l'idea della sua grandezza. E questa è la magia del cinema. La magia del cinema però anche... Capace di far conoscere, diciamo, il cinema è importante per quanto mi riguarda, per questo, perché tu attraverso il cinema fai conoscere le storie di persone che apparentemente vengono dimenticate, che vengono messe da parte e costruendo una mitologia, costruendo, diciamo, un'epopea, le ritorni alla gente e dandogli un'importanza che quella che devono avere. Poi su questo tema del mito ti vorrò fare una domanda particolare. A questo punto però vorrei dare la parola al nostro secondo ospite, secondo soltanto in ordine di apparizione e non certamente di importanza, è Carmine Mancuso. È la seconda volta che... In ordine di importanza, si rispetto a Pasquale Scimica. Allora, io volevo fare un po' di fair play, so che siete buoni amici. Carmine Mancuso è già la seconda volta che ha partecipato a Torco Sicilia, hanno fatto molto rumore le tue dichiarazioni sulla mafia 4.0, sull'upgrade di Cosa Nostra dopo l'arresto di Messina Delaro. Oggi sei qui, perché Pasquale Scimica dedica un film alla figura di Cesare da Terranova, ma anche alla figura di Lenin Mancuso. Era tuo papà. Allora, io vorrei innanzitutto pubblicamente, l'ho già fatto altre volte, ma lo vorrei ripetere anche in questa sede, fare un ringraziamento pubblico a Pasquale Scimica. Pasquale Scimica, che è un insignio regista, l'hai già detto tu, è inutile che continuiamo a testare l'odio, perché basta conoscere le sue opere, basta averlo seguito, per capire qual è la sensibilità, la capacità e la grande professionalità di Pasquale Scimica, per avere portato alla luce questa storia dimenticata. Oggi, insomma, parlare di mafia, anche per le nuove generazioni, l'emblema è, con tutto il rispetto, per carità, ed è giusto pure che sia così per certi versi, è la figura di Falcone e di Borsellino. Molti non sanno... Non interrompo un attimo, non a caso tu sei Presidente dell'Associazione Vittime Dimenticate di Mafia, e credo che ci sia un gancio di continuità anche nel racconto che Pasquale vuole fare su Cesare Terranova, perché tra i giudici martiri di mafia, la figura di Terranova è quella comunque che è stata... È l'antesignano, è l'antesignano della lotta alla mafia. E chi era Cesare Terranova? E allora, vorrei magari ulteriormente ricordare, per quanto riguarda gli adulti, le vittime, ne ha parlato ieri, nella manifestazione, i giorni scorsi, nella manifestazione di Libera, i morti, caduti per mafia, quindi forse dell'ordine, magistrati, giornalisti, cittadini vari, persone impegnate, sono circa 2.000 dal dopoguerra ad oggi, sono quasi 3.000. Su 3.000, ricordare a Falcone e a Borsellino, è tutto sommato, diciamo, senza magari dolo, un oltraggio possibilmente alle vittime, che hanno dato il loro sangue, Oltraggio è anche un falso storico, perché non è che si dà più enfasi alla figura di Falcone e Borsellino, ma secondo me vengono anche paradossalmente penalizzate, perché Falcone e Borsellino, credo che abbiano lavorato proprio in nome di quelle vittime che c'erano state. E peraltro, diciamo, significa quantomeno mortificare il dolore dei superstiti, dei parenti, dei familiari, perché il sangue versato è uguale. Quando diceva Totone, la famosa poesia Rivella, la morte è uguale per tutti, per il Papa, per il Principe, per l'Imperatore e per il normale cittadino. Allora dicevo quindi, grazie a Pasquale Scimeca, perché ha riportato alla luce questa storia, nel momento in cui poi il film sarà messo in onda, di questo magistrato, diciamo, non che era il caviere solitario, oppure che fosse, insomma, il giustiziere, era un magistrato che faceva il suo lavoro di magistrato. Però descrivere un po' la figura di Cesare Terranova, perché, diciamo, oltre a fare il giudice, lui ha avuto anche un ruolo importante in Parlamento, perché presideva per la Commissione, ora è in Commissione Antimafia, quando Commissione Antimafia aveva tutti i problemi che la politica di quei tempi gli opponeva contro. Allora, Cesare Terranova, tanto per fare un esempio, per ricordare una cosa importante che poi Pasquale, se neanche nel suo film, farà ricordare, ebbe come allievo Paolo Borsellino. Quindi, qual era la figura di Cesare Terranova, come si è antesignata una volta la mafia, l'uomo che scoprì il potenziale criminale dei cordionesi, di Luciano Ligio soprattutto, ma anche di Provenzano, di Urrino e tutte le compagnie cantante, e con il quale, insomma, allevava questi magistrati giovani. I primi processi contro Cosa Nostra li istruisce proprio Terranova. Sì, i primi processi, i primi maxi processi, li fa Terranova e sono concentrati quantomeno in due processi, che ripeto nel film si vedranno, sono quello di Catanzaro e quello di Bari, laddove gli imputati erano addirittura a 114. Ecco, Cesare Terranova nel primo processo di Catanzaro, parte dalla strage dimenticata, che noi poi ricorderemo a breve, caduta il 30 giugno del 63, che era la strage di Ciaculli. Quando muoiono sette tutori dell'ordine, tutti in una volta, perché sotto l'esplosione della giudetta al tetolo, c'è una reazione in tutta la Repubblica, anche nel mondo della politica, finalmente la polizia, i carabinieri, i forze dell'ordine, la magistratura... Quindi, Carmi, per fare una battuta e per invitare la parola a Pasquale, in realtà possiamo dire che la figura di Terranova è centrale perché è il primo magistrato che intuisce cosa sta diventando la mafia negli anni 60-70, che si sta orientando verso... La mafia del feudo che diventa... La stretta ordinanza corleone. La mafia del feudo che diventa la mafia gangsteristica americana, perché, insomma, copia da Gio Bonanno che viene in Sicilia, appunto, per dare questo segnale, il traffico istitufacente, è quello che... ormai la mafia che entra nel mondo degli affari e che diventa una multinazionale. In quel momento conosce mio padre, perché la squadra mobile, dico soltanto questo, fa un rapporto, dopo la strage di Ciaculli, per denunze 54 mafiosi, Terranova chiede l'ausilio alla squadra mobile di avere un sottoufficiale valido conoscitore della mafia che lo possa affiancare, perché a quel tempo non c'erano i computer, non c'erano, diciamo, tutti gli attrezzatori... Database... Mancavano, mancavano i fotocopiatici, si facevano tutto a mano dalla penna, penna e calamaio, e allora mio padre conosce Ciaculli e Roma, cominciano a collaborare, i 54 li fanno diventare 114, e quindi fanno una fotografia allargata in tutto il contesto mafioso che si andava evolvendo, che poi porterà... Che una mappia dalle famiglie criminali... Perfettamente, che poi sarà di grande ausilio per Falcone e Borsellino, nel famoso Maxi Processo, quello che è celebrato, e di cui si parla sempre, a discapito di chi è stato prima, insomma, che ha posto le basi. Allora, Pasquale, quanto è difficile, dal punto di vista narrativo, ricostruire una figura così complessa è tragicamente iconica come quella di Cesare Terranova e Lenin Mancuso. Non è difficile, basta semplicemente applicarsi nelle cose. Cesare Terranova e Lenin Mancuso rappresentano... Ma io mi riferivo al concetto del mito, no? Perché il mito poi... Ma è già insito nelle loro vite. Cioè, fermiamo un attimo il tempo, diciamo, andiamo a 58, 59, 60, sono anni in cui la mafia non esiste. Cioè, si aprivano gli anni giudiziari con procuratori delle varie repubbliche, dei vari tribunali che dicevano la mafia è un'invenzione di giornalisti di sinistra, logicamente, e di intellettuali di provincia. Si riferivano all'Eonardo Schei. Il cardenale Pappalardo, a Ceresco di Palermo, il quale risponde al Monsignor dell'Acqua, a Segretario del Stato, gli chiede a nome del Papa ma c'è la mafia? Dice no, sono quattro giovinastri. Risponde per lettere, scusami. Quindi in questo... Ruffini o Pappalardo? Ruffini. Ah, Ruffini, perché hai detto Pappalardo? Ah, perdono, chiedo scusa, mi sembrava appunto di collocarlo temporalmente. Ernesto Ruffini, ma scusami. Allora, diciamo, in questo contesto, diciamo così, in cui la mafia non esisteva e non poteva esistere, dal punto di vista, diciamo così, dove nessuno faceva indagini, due uomini, cioè, il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Neri Mancuso hanno il coraggio di sfidare tutto e tutti, compresi i loro colleghi nel tribunale che gli dicevano ma chi te lo fa fare, perché? Dicevano, no, ti metti in queste cose, lascia perdere, eccetera. E cosa fanno? iniziano a indagare sulla mafia più, diciamo così, più crudele e più violente che c'era all'epoca e che poi ci sarà anche dopo, cioè Icor Leonesi, che all'epoca avevano come capo un signore che si chiamava Luciano Liggio, un personaggio di levatura criminale altissima, e sulla mafia dei palermitani, che non era una mafia qualsiasi, era una mafia che era legata strettamente al potere politico dell'epoca. E' massonico, ma anche quello massonico, quello massonico più violente. E' d'oltre oceano. E quindi diciamo, già questo è epopea, cioè questi due uomini soli che hanno il coraggio di fare questo e che si impegnano e che vanno avanti per la loro strada e riescono a portare a processo 114 a Catanzaro e 66 a Bari, cioè l'intera mafia dei Corleonesi. Allora io, diciamo, il punto, quando io ho iniziato a studiare queste cose, perché logicamente bisogna studiare, cioè noi non è che ci inventiamo niente quando facciamo, almeno io, quando faccio i film, studio e poi cerco di riportare tutto ciò che ho imparato da questi studi su un piano diverso, che è quello della narrazione, dell'epopea o comunque del linguaggio cinematografico. Quando la domanda che mi sono fatto, all'inizio è stata questa, ma se il processo di Bari, dove c'erano alla sbarra tutti i Corleonesi, da Liggio, Riina, Provenzano, erano tutti alla sbarra, fosse finito come doveva finire, cioè con la condanna di questi signori, la storia d'Italia sarebbe cambiata. Però probabilmente non è il momento di cambiare. Purtroppo quel processo è finito con l'assoluzione di tutti gli imputati. Pensa che l'unica condanna è stata data a Totorrina, che all'epoca era un giovinastro, tra virgolette, per possesso di patente falsa. Era l'unica cosa che non potevano negare, perché l'avevano trovato in tasca questa patente falsa e quindi non potevano non processare. Tanto se non sbaglio, poi da quel processo inizia anche la grande stagione della titanze, no? Certo. Cioè, paradossalmente, lo Stato, che non ha il coraggio di condannare, dà quella forza a Cosa Nostra per diventare quel soldo del giudizio che ci porta alle stragi. Allora, processo di Bari 69, processo di Catanzaro 67. Ricordiamoci queste date, perché sono importanti. Prima Mancuso citava la strage di Ciaculli, 1963. La strage per la quale non c'è un mandante definito? No, non si sa niente, ancora oggi non si sa quasi nulla. Però l'unica cosa che si sa è che in quella strage vengono colpite tutte le istituzioni di difesa dello Stato, caribinieri, poliziotti, esercito. Quella strage dopo quella strage c'è stata come succederà dopo con la strage di Falcone e Borsellino nel 1992 un'indignazione di massa sia delle forze dell'ordine che popolare. Se si guardano le foto perché sono solo le foto dei funerali di questi signori è una cosa. Quindi inizia un'attività di repressione feroce e violenta contro la mafia. La mafia arriva al punto di sciogliersi, cioè viene sciolta la cupola. quindi questi signori la maggior parte vengono arrestati. Chi non viene arrestato come Buscetta, Cicchidero vanno all'estero in Venezuela e in Brasile eccetera. E la mafia se i processi e Terranova fa istruisce insieme con Mancuso che fa le indagini istruisce i processi se quei processi finivano con la condanna dei mafiosi finiva la mafia. E sarebbe stata un'altra storia completamente sarebbe stata un'altra storia perché loro quando è che riprendono forza? Quando è che la mafia riprende forza? Dopo le assoluzioni. Questi tornano nei loro paesi nei loro quartieri più forti di prima dice noi comandiamo noi qua ci fanno un baffo sostanzialmente. Una bollinatura dello Stato che dice fate quello che vuole. Non esiste continuate a fare quello che vuole. Anzi, portateci i voti fate i voti. Questo è il punto per cui questo film secondo me è importante. Perché le... Posso fare una provocazione Pasquale, scusate. Questo film per come lo stai raccontando tu chiaramente ci riporta come dire ai giorni attuali anche rispetto a quello che la cronaca ci racconta perché c'è un modo e un modo di trattare il mito. Sì, sì, sì. C'è bisogno di dire cosa stiamo assistendo in questi giorni poi vorrei anche il parere di Carmine su questo. Perché raccontare io ho visto i tuoi film e so come tratti tu i personaggi come li disegni e li, come dire incastoni all'interno di un tessuto narrativo molto preciso ma anche estremamente forte dal punto di vista poetico. Allora Terra Nova e Mancuso rappresentano ci sono due momenti della diciamo così nella storia della lotta alla mafia importanti. Il primo momento è quello sociale cioè la prima rivolta contro la mafia viene sul piano sociale i contadini che si ribellano che occupano le terre e finisce come finisce 36 dirigenti contadini ammazzati la strage di Portella della Ginestra che è un fatto importantissimo e siamo diciamo alla fine degli anni 40 47 48 poi c'è un vuoto c'è un vuoto perché poi si ricomincia diciamo a parlare di lotta alla mafia con diciamo appunto Falcone Borsellino il pool antimafia il maxi processo a partire dagli anni 80 e poi quello che succede nel mezzo è caratterizzato ed è fondamentale perché come diceva prima Mancuso cioè Borsellino è stato un allievo di Terranova Terranova per questi giovani magistrati come Falcone come quelli che poi lo stesso Chinnici Costner che moriranno prima era una specie di mito era diciamo una figura un maestro al quale rifarsi quindi ecco noi con questo film cerchiamo nei limiti del possibile di colmare questo vuoto cioè quindi le figure del giudice Terranova le figure del maresciallo Liene e Nivancuso sono le figure che collegano diciamo così la lotta danno un senso alla storia danno un senso alla storia quindi anche perché Cesare Terranova e così come anche Liene Nivancuso Liene è un nome che ci riporta dice tutto ad altre storie ad altre cose ma anche Cesare Terranova era di Petralia Petralia viene ucciso tu poi vieni da l'Eterno un po' più super giudice diciamo Liminusa da Liminusa poi Madonie e quindi che succede che Cesare Terranova conosce da giovane perché non poteva non conoscerlo un altro contadino che viene ucciso dalla mafia si chiamava Epifanio Lipuma c'era una lotta contadina quindi lui conosce quel mondo sa che significa la prepotenza della mafia contro i poveri ne conosce così come Lienin Mancuso viene da una famiglia diciamo per cui come dire la lotte sociali eccetera eccetera ma Lienin Mancuso è uno di quei poliziotti che insieme con Boris e Giuliano erano all'epoca erano tra i pochi si contavano sulle dita di una mano che avevano questa capacità di stare sul territorio cioè il giudice non fa le indagini o meglio fa le indagini ma il giudice sta in ufficio chi fa le indagini sul territorio e quindi chi porta chi conosce le cose chi porta le prove i confidenti eccetera sono i poliziotti i perebinieri quelli che stanno ecco Mancuso è un poliziotto moderno cioè è un poliziotto che diciamo così al quale poi si ispireranno i vari Cassarà Monta Natale diciamo quel mondo quel mondo diciamo che poi diventano cioè quei nuclei di poliziotti ecco si ispirano alla figura di Lienin Mancuso che guarda caso era amico intimo di Boris e Giuliano cioè quindi come vedi le cose si tengono tutte insieme quello che noi stiamo cercando di fare è di aprire uno squarcio su un mondo che fino ad oggi è stato nascosto di cui non si sa niente è complicato è difficile ma è anche bello è una bella sfida non sei uomo da sfide semplici una battuta per concludere perché questa trasmissione è volata è stato veramente un battito di ciglia e beh altrimenti quando gli argomenti sono così profondi precisi e dettagliati grazie a voi io voglio fare una domanda retorica sentimentale un po' alla Marzullo perché Carmine tu è un uomo sempre dal cipio molto duro non hai mai un momento di commozione non riesci probabilmente anche tu hai una maschera per difenderti ma chi era? io per la seconda volta ho sentito questo termine sappiamo chi era il poliziotto Lenin Mancuso ma chi era tuo papà? e quanto ti manca ancora oggi visto che hai sentito la necessità di fondare un'associazione che si chiama Vittime Dimenticate di Mafia io soltanto una piccola premessa ma di un po' che secondo anzitutto ringrazio ancora Pasquale insomma per l'opera che ha compiuto e devo dire che anche se tu giustamente dici una sorta di maschera insomma di durezza di intransigenza quando Pasquale mi ha dato il privilegio di vedere in privato il film non ancora del tutto completo e realizzato l'ho già detto in altre occasioni in altre circostanze alla fine mi sono commosso anche perché il finale che poi io spero gli altri vedranno quando sarà il film sarà programmato sarà proiettato il finale è molto struggente è un finale tutta sorpresa che la sensibilità di Pasquale Scimeca ha voluto inserire in maniera in maniera molto non da peanghisteo ma da dare ecco un significato di quello che può essere il dolore di un cittadino di una persona per bene una persona onesta di un figlio di un parente nel vedere quale fine puoi fare la sorte che fa e quindi questo era il fatto di portare alla luce chi fosse mio padre nella misura in cui era un uomo che amava anzitutto la famiglia anche in questo momento la tua voce è un poco corrotta dall'emozione è perché Pasquale mi ha commosso e quando si rievo a questi episodi io ricordo il finale del film e ricordo la figura di mio padre ma anche di Cesare con i quali vennero legati anima e corpo vogliono insieme cominciano insieme a lavorare si abbracciano nel momento finale mio padre si butta sul giudice per difenderlo quindi questo è l'aspetto emblematico di chi fosse mio padre chi fosse la sua generosità la sua dedizione al dovere e quello che era il suo senso e l'equilibrio di quello che era il privilegio della giustizia allora Pasquale il nostro tempo di situazione è finito Pasquale io veramente ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato invito tutti quanti i nostri web spettatori e telespettatori e insomma quando il film di Pasquale Scimeca dedicato a Giuse Terranova Eleni Mancuso è andato a vedere perché è un pezzo di storia che ci manca oggi per capire che cosa siamo e che cosa è stata la Sicilia in questi anni quindi grazie ancora una volta a Carmine Mancuso e grazie a Pasquale Scimeca alla prossima puntata del Talk Sicilia Grazie a tutti